Oggi celebriamo i 207 anni della storia dell'arma. Ricordiamo la storia dell'arma qui in Sicilia. E per tutti i carabinieri un momento importante, perché l'arma è legata al territorio, è legata alle comunità. Ricordiamo i nostri caduti e ricordiamo le nostre famiglie che ci stanno a fianco. Lavoriamo d'intesa con le altre forze di polizia e con i nostri parti specializzati. Voglio ricordare che oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. E' l'arma con il suo reparto dedicato alla tutela dell'ambiente in prima linea tutela di questo bene costituzionale. Apriamo le nostre caserme al FAI, al Fondo Ambiente Italiano, a testimoniare la vicinanza dell'istituzione ai cittadini.